Sia Volley che si appresta ad affrontare per la prima volta nella sua storia il campionato di B1 femminile. La società punta sulla continuità. La linea societaria è chiara, si punta sulla continuità per affrontare dopo la storica promozione il campionato di serie B1 femminile di Volley. E' un'ombra che sta allestendo l'organico per la prossima stagione. Ad aver dato il proprio assenso per continuare a vestire la maglia bianco-azzurra sono altre due giocatrici entrate nei cuori della tifoseria Bastiola. Eleonora Gatto e Valentina Morelli. La regista romana Gatto e la centrale Amerina Morelli dichiarano entrambe di essere pronte a ricominciare a lavorare fin da subito dopo una stagione unica e una promozione conquistata sul campo. Due pedine preziose per il collettivo che dovrà affrontare la terza categoria nazionale per la prima volta della sua storia e si accinge a farlo con le idee chiare su quali siano i propri obiettivi. Dopo l'ufficializzazione di questa coppia di atlete sono sei le giocatrici che hanno rinnovato il contratto. Gagliardi, Gatto, Lorio, Mezzasoma, Morelli ed Ubertini ma tutto lascia presupporre che le conferme non siano ancora terminate. Elena Ballarani, Tef Channel News, Bastia Umbra, Perugia.